L'ombra per me sono i grandi artisti italiani, diciamo sì, che fanno ombra, noi sono giovani, dove noi abbiamo appreso sempre tutto. Io fondamentalmente vorrei stare nell'ombra di questi, diciamo sì, grandissimi artisti. Noi siamo, diciamo sì, una grandezza universale a livello artistico. Non abbiamo, forse, ancora abbiamo il piacere di essere, diciamo sì, rispettati nel mondo, soprattutto per l'arte. Io nasco da una forte figurazione, man mano che ho traslato, e quindi da natura, diciamo sì, io l'ho interiorizzata, esponendo una mia visione, stando attento a tanti, diciamo sì, linguaggi. Poi a questo devo aggiungere anche la mia, un modo di lavorare, che sono abbastanza veloce, no? Quindi la mia pendellata è veloce, un po' cosa c'è di astratto, c'è un po' di così via. Insomma, tutte queste visioni si sono sedimentate, ma non si vedono, perché si sono sovrapposte una sopra l'altra, sono arrivato a questo punto. Ma non ho finito perché non sono arrivato. Io spero di finire la morte e iniziare un momento a dipingere, perché un altro capitolo è un mondo, per quello che mi resta chiaramente nella vita, di poter fare ancora le cose. È il mio ossigeno dipingere, è il mio ossigeno. Ho lasciato la scuola per il mio lavoro. Perché questa lunga assenza da trapani? Noi abbiamo bisogno di luce e di pareti polite. E possibilmente una galleria che sia organizzata. Io faccio il pittore, non faccio il gallerista. Io devo avere uno spazio. Qua devo ringraziare anche la cura che mi ha ospitato in questo spazio, che è piacevole, anche se ci sono delle cose da migliorare. Però non è una galleria che ha un programma per cui la gente si abitua a venire con un programma e a vedere tutte le varie mostre che ci saranno. Speriamo che ce ne sia un'altra. Speriamo che trapani si accolga grandi artisti. Noi abbiamo grandi tradizioni, da Corallo, dagli Argentieri, dalle Maiole. Abbiamo perduto tutto. Abbiamo perduto la nostra identità. E di questo io sono veramente addolorato. Grazie a tutti.